Devono avere un sistema di difesa attivo che intercetta i colpi di mortaio. Solo pochi sono andati a segno. Merda! Non puoi mollare adesso, agente. Non avremo altre occasioni. Antenna comunicazione offline. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grave trauma rilevato. Sistema sospeso. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Rilevata traccia energetica atipica. Mai visti valori del genere. Viene dal terminale. Va là dentro e cerca di individuare la sorgente. Sorgente segnale energetico. Sembra una specie di sistema di difesa ai deck. Vedi se riesce a mangiare. Nodo di sistema disattivato. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Modulo riparazione in funzione Grazie a tutti Modulo riparazione in funzione 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 nodo di sistema disattivato a un agente serve aiuto speriamo fosse solo un prototipo raggiungi l'hunger e trova le liste di case dobbiamo sapere cosa trovo vado qui i blacktank quando faccio fuori grazie a tutti rilevato punto d'accesso di rete collegati al terminale e vedi che riesci a trovare fine trasferimento c'è un mare di dati da analizzare ci vorrà qualche minuto radio nemica intercettata la divisione è sul posto non fateli avvicinare a quell'aereo in alcun modo qualunque cosa stiano proteggendo è qualcosa di preoccupante controlla l'aereo non 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 Grazie. Gas tossico rilevato. Agente a terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tossicità a livelli critici. Agente ucciso. Tossicità a livelli critici. A un agente serve aiuto. Agente a terra. Tossicità a livelli critici. 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 Agente a terra. Tossicità a livelli critici. 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 Grazie a tutti. 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 Tossicità a livelli critici. Tossicità a livelli critici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Radio nemica è intercettata. Canaglia non risponde. Consideratelo morto. Ricevuto. State tutti pronti al contatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sappiamo quali... tre sorprese a tutti. Attivazione... Attivazione sistemi di sicurezza. Attivazione sistemi di sicurezza automatizzati. Si mette male. Grazie a tutti. 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 Tutti a tutti. Tutti a tutti i sistemi secondari in linea. Tutti i sistemi secondari in linea. e a tutti i sistemi secondari in linea. Grazie a tutti. Teniamo... Grazie a tutti. 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 Agente fuori combattimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sistemi critici esposti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.